Attivato a Santa Maria di Castellabate è lo sportello antiviolenza sulle donne nell'ambito di piano di zona S8 di Vallo della Lucania, tra i servizi gratuiti offerti, l'assistenza legale, l'ascolto e l'aiuto psicologico e incontri di sensibilizzazione nelle scuole. Questo è lo sportello del centro antiviolenza però nell'ambito S8 di Vallo della Lucania, il quale comunque comprende tre sportelli, uno a Castellabate, uno ad Agropoli e un altro appunto a Vallo della Lucania. Opererà comunque un'equipo multidisciplinare, le psicologhe, assistenti sociali che faranno l'accoglienza presso gli sportelli, consulenti legali e un gruppo di sociologhe che comunque lavoreranno sull'organizzazione poi di quelle attività che verranno fatte anche sul territorio. A Vallo della Lucania, in via Rinaldi, ex convento dei Domenicani, gli orari di apertura saranno il mercoledì dalle 10 alle 13, il martedì e il giovedì pomeriggio dalle 15 alle 18 e qui a Castellabate il lunedì mattina dalle 10 alle 13 e il martedì pomeriggio e il giovedì pomeriggio sempre dalle 15 alle 18. Poi abbiamo un numero di cellulare H24 che è il 347-7747-493 e un indirizzo mail che è cavambitos8-gmail.com. Abbiamo già portato avanti un buon lavoro, lo scorso anno i casi sono stati già tanti nonostante era un primo inizio e di conseguenza si è cercato di mantenere questa linea perché le richieste ci sono state anche da parte di questo territorio. Stiamo comunque cercando di creare una rete territoriale contro la violenza sulle donne sta coinvolgendo tutte le parti istituzionali del territorio, tra procure, forze dell'ordine, parte ovviamente sanitaria perché sappiamo anche che spesso i primi accessi per le richieste di aiuto sono all'interno di pronto soccorso, quindi speriamo a breve di poter stilare un protocollo di intesa proprio per la costituzione di questa rete contro la violenza sulle donne.